Talvolta qualcuno può fraintendere la fermezza nell'Evangelo, nella verità rivelata di Cristo, come una forma di bigottismo, di chiusura, ma non è così. È piuttosto difesa della verità e desiderio ardente che le anime non siano confuse, ma che si salvino. È la compartecipazione della vera medicina, che è la verità dell'Evangelo della Grazia, il valore dell'opera redentiva di Cristo, che sola può salvare, e del preziosissimo sangue di Gesù, che solo può purificare le nostre viti, i nostri cuori, mentre abbandoniamo quello che non conta, quello che non va, quello che è un disordine morale, per stimare le cose eterne, le cose buone, le cose di lassù, e il prezzo col quale siamo stati santificati. Dunque, stare fermi nella verità non è affatto bigottismo, ma è amore per Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, il salvatore del mondo, e anche amore per il prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.